Ecco qui, ultima mei del venerdì, ora sì potrò sfondarmi con Netflix. Comodo, sul mio divano e congolo, sarò il sovrano indomito di film e cartoon, serie e tv, niente va più. Tragedy, quando la linea cade e muore il wifi, senza Amazon, Disney, Netflix tu non sai, a chi e quanti salti tu nomina, nell'alto dei cieli. Tragedy, quella luce rossa che non va più via, alternativa buona sembra non ci sia, se no la noiosa è vecchia tv, come gli anziani. Grazie.